Vuoi riavviare un'altra diretta? Vuoi rifare un attimo l'avviso della casa? Vuoi riavviare il fatto della tavola? Qualche problema tecnico? Ora ci risiamo. Volevo ripetere allora ciò che ho detto a riguardo della benedizione della mensa. Preparate per domani una scodella con dell'acqua e poi a fine, quando ci sarà la benedizione della Santa Messa, la benedizione non è altro che un benedire. E allora quando è giorno domani, a pranzo, voi farete in questo modo. Trovate, come dicevo, questa formuletta che si trova sempre in internet benedizione della mensa nel giorno di Pasqua. Così dovete scrivere, uscirà qualche formuletta. Il papà, il capo famiglia, la persona più anziana, chi volete. Ma è importante che la famiglia sia riunita a tavola e in quel momento il capo famiglia si fa il segno della cruce insieme con i presenti, si recita il Padre Nostro, si legge questa formuletta e poi il capo famiglia benedice la tavola con i presenti. Come? Prendendo un rametto di palma, se c'è, può andare bene anche quello dello scorso anno, altrimenti prendete un fiore, vedete come questo, e si intinge nell'acqua e si benedice la mensa e tutti si segnano con il segno della cruce. E poi vi date il saluto pasquale. Cristo è risorto, veramente è risorto. Il Signore sia con voi E come il tuo spirito Chinate il capo e ad ogni acclamazione rispondete Amen In questa santa notte di Pasqua Dio Onipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace Dio che nella Pasqua del suo figlio ha rinnovato l'umanità intera vi renda partecipi della sua vita immortale Voi che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna E la benedizione del Dio di misericordia Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre Amen La messa è finita, andate in pace Alleluia, Alleluia Rendiamo grazie a Dio Alleluia, Alleluia E allora ci auguriamo buona Pasqua dicendo, io dirò Cristo è risorto e voi dall'altra parte rispondete veramente è risorto Cristo è risorto e veramente è risorto Santa Pasqua e buona serata Santa Pasqua e buona serata Regina c'è lì Letta rea Alleluia Qui dà Vestis di portare Alleluia Vestis di Sì, 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 Alleluia Ora, grazie a Dio Alleluia Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì Grazie. Grazie. Grazie.